E' stata la Fiorentina a vincere l'edizione 2024 del Torneo Moreno-Vannucci. I viola hanno battuto in finale la Sestese, terzo posto per il Montemurlo Calcio e quarto l'Africo Calcio. Consegnati anche tanti premi come quello alla capocannoniere della manifestazione, Mancini, e alla più giovane giocatore partecipante, Vinci, entrambi, della Fiorentina. A consegnare quest'ultimo riconoscimento è stata l'Unione Nazionale Veterani dello Sport, miglior portiere Taddei della Sestese, il trofeo Fair Play, consegnato dal Coni, è andato al Montemurlo Calcio, miglior giocatore del torneo Le Bid dell'Africo Calcio. La serata finale ha visto la partecipazione della Federazione Italiana Gioco Calcio con le diverse autorità istituzionali, politiche e sportive. Ottima l'organizzazione da parte della Vannucci Piante in collaborazione con la società pistoiese AC Capostrada. Sono state 12 le squadre partecipanti professionistiche e nonne con le proprie categorie esordienti, suddivise in quattro gironi. L'appuntamento è alla prossima edizione.